Buongiorno, buon pomeriggio, buona giornata e buon pranzo in questo martedì 22 settembre 2020 cari amici siamo quasi alle ore 13 in questo primo video di oggi parliamo del primo Monday Night del massimo campionato cadetto di calcio maschile SRA che ha visto protagonisti eri sera a San Siro con mille spettatori al seguito Milan e Bologna, rossoneri vittoriosi per 2 a 0 con un super Zlatan Ibrahimović con la prima red esiglata al 35esimo del primo tempo con su assist di Teo Hernandez per rigore al 50esimo per cronaca diciamo che sono entrati per il Milan Diaz, Duarte, Tonale e Krunic per il Bologna, Alsen, Sansone, Santander, Svamberg, Vignado, Gix all'88esimo espulso per gli ospiti quindi per il Milan ottimo esordio in campionato seppure con una minima, molto minima cornice di pubblico ma sappiamo tutti il periodo che abbiamo e continuiamo ad affrontare quindi i rossoneri che saranno impegnati ora praticamente tra 5 giorni a Crotone per Crotone-Milan credo alle ore 18 intanto sempre il Milan e sempre a San Siro in casa non so però se ci sarà il pubblico giovedì ci sarà la seconda sfida che in caso di vittoria contro il Bodo Glint squadra norvegese prima in classifica potrà accedere allo spareggio playoff in quella che sarà una sfida con Obe Zictas o il Rio Ave secondo me diciamo che sia una o l'altra l'importante è che come almeno sulla carta il Milan dovrebbe battere Bodo Glint poi lo spareggio playoff sia da spartiacco per questo inizio di stagione perché innanzitutto comunque va detto che dopo alcuni anni abbastanza di sacrificio il Milan deve cercare comunque di rimanere sempre lì nelle zone calde dell'Europa tra Europa e perché mai magari provare, cercare di provare ad ottenere un piazzamento a Champions ora non voglio tanto alzarmi sul piedistallo, alzarmi la squadra sul piedistallo però rimango anzi con i piedi per terra dicendo che pensiamo partita giorno dopo giorno partita dopo partita e concludendo il video ribadendo che sì, ribadendo che quindi nella prima uscita stagionale del massimo campionato cadetto di Serie A maschile di calcio 2021 il Milan grazie a due redi di Sladen Ibrahimovic, uno nel primo tempo, l'altro nel secondo batte 2-0, il Bologna ottiene i primi tre punti della stagione grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!